Sarà Bobbio la sede della Festa Grande a 2016 degli Alpini Piacentini. Lo ha deciso l'Assemblea che questo pomeriggio si è riunita a San Giorgio. In corsa c'era anche Carpaneto. Erano candidati due gruppi alpini che hanno proposto la candidatura per ospitare la Festa Grande che erano Bobbio e Carpaneto. È stata messa i voti e l'Assemblea ha votato per Bobbio. La manifestazione quest'anno si svolgerà invece a Castel San Giovanni. Roberto Lupi, presidente delle 2841 Penne Nere Locali, secondo i dati di iscrizione resi noti proprio oggi, ha tracciato poi un bilancio dell'attività degli ultimi mesi. È un bilancio positivo, nel senso che abbiamo svolto quest'anno tantissime attività. In particolare siamo cresciuti ancora come numero di alpini iscritti, quindi ancora sull'onda della donata nazionale, che ha creato tanto entusiasmo, abbiamo aumentato il numero degli iscritti. abbiamo svolto tantissime attività come protezione civile. L'Assemblea doveva anche rinnovare tre consiglieri. Confermato Pierluigi Forlini, nuove entrate per Giancarlo Lorenzi e Franco Pavesi.